Basterà una SMS per liberare le persone positive al Covid da quarantena o da isolamento. A deciderlo la Regione Piemonte. Vogliamo snellire la parte burocratica, evitando lungaggini ed inutili attese ai cittadini. Sottolinea il Governatore Alberto Cirio. Le comunicazioni direttamente sul proprio telefono arriveranno con un messaggio. All'inserimento in piattaforma dell'esito positivo del tampone, il cittadino riceverà dunque automaticamente un SMS che conferma l'avvio del periodo di isolamento. Anche i contatti stretti di un caso positivo saranno avvisati mediante messaggio SMS che conferma l'avvio del periodo di quarantena. Al termine di questo periodo il soggetto potrà effettuare un tampone per l'uscita dall'isolamento, presentando l'SMS di comunicazione. Entro 24 ore l'avvenuta guarigione ci sarà un immediato invio di un altro SMS di fine isolamento e poi la notifica al Ministero di Emissione del Green Pass da guarigione. Nel caso in cui non sia possibile disporre di un numero di cellulare, l'ASL provvederà ad utilizzare un canale diverso di comunicazione con il cittadino.